Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse ragazzi, molto piacere, io sono Roberta, questo è il mio canale, benvenuti a tutti. Vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale, se non l'avete ancora fatto, e cliccare sulla campanella per non perdervi tutti i nuovi video. Mi raccomando ragazzi, seguitemi anche su Instagram, perché nelle mie stories troverete tutti gli aggiornamenti, shopping, in tempo reale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ragazzi, video di oggi, video room tour e organizzazione dell'armadio. Me l'avete chiesto in tante, alcune mi avevano chiesto facci vedere come organizzio l'armadio, facci vedere un po' le nuove, insomma le novità di arredo, eccetera, eccetera. E quindi niente ragazzi, eccovi accontentati e cominciamo con il video. Allora, ho acceso la ring light ragazze, perché altrimenti la stanza sarebbe stata un po' buia, perché ho solo quella plic lì. In realtà ce n'era un altro lì sopra, che però è stato tappato comunque dall'armadio e quindi lì poi ci metterò un neon, una barra neon sopra l'armadio, così da illuminare comunque un po' più la stanza. Allora, cominciamo dall'angolo armadio, che credo sia quello che vi interessa di più. Allora lì sopra ci ho buttato delle valigie, perché comunque ragazzi è una casa piccolina, comunque ambilocale, quindi insomma devo ottimizzare tutti gli spazi. Comunque in questo lato ho questo armadio dell'IKEA ad angolo, vedete, ad angolo, così angolare e molto molto capiente, mi ci trovo veramente bene. E poi dall'altro lato la poltroncina con il cassettone, ecco lì c'è la ring light, lì c'è la finestra e poi ho il letto con i comodini. Allora, quindi cominciamo dall'armadio. Allora, in questo primo scompartimento, allora ho organizzato così in alto, ho praticamente quel mega ordinette di IKEA che sembra, non lo so, sembra ci sia il morto dentro, sembra una bara. E c'è tutta la roba estiva, quindi costumi e copricostumi, perché so che comunque l'inverno non mi servono, a parte quei costumi che ho preparato lì, perché tra qualche giorno andrò alle terne, alle cucci terne di Presandidie, in Valle d'Aosta vicino Courmayer, e non vedo l'ora. E niente, quindi mi sono già preparata, insomma, dei costumi, devo capire quale portarmi. Quindi lì sopra ordinette con costumi e copricostumi. Poi in questo ripiano qui ho tutte le felpe, felpe, felpine, eccetera, che uso per andare in palestra. E qui ho, diciamo, un po', giacche, camicie, vestitini, gonne, quindi tutta l'appenderia, vedete anche l'armadio ha anche le luci, con il, come si chiama, il sensore, vedete se io lo tappo, ecco si spegne la luce, quindi molto molto comodo. Allora, qui ho, diciamo, delle giacche, un kimono, dei kimono, questi sono tutti i miei blazer, tutti i blazer neri, sì, blazer, 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 anche questi, tutti i blazer. Poi ho dei top, delle camicie, qui ci sono dei vestiti, sia quelli un po' più elegantini, vedete, paillette, laminati, eccetera, 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 sia quelli un po' più semplici, diciamo, per tutti i giorni. Sì, anche qui, un po' più semplici, tubini, insomma, quindi sia più per uscire, sia più da giorno. Poi, qui ho tutta la parte, comunque, delle gonne, minigonne, menecopelle, jeans, eccetera, eccetera, eccetera. Qui, vabbè, ci sono tutti dei leggings piegati, un po' un casino, ragazze. E poi, nella parte di sotto, ho, praticamente, questo affare che io adoro, che l'avrei tanto voluto anche a Napoli, poi non sono riuscita a metterlo. Questo arnese, qui, per sistemare i pantaloni, già, ragazzi, questo è una figata, incredibile, vi salva un sacco di spazio, perché ci entrano talmente tanti pantaloni. E poi, non so voi, ma non mi capita più quella cosa tremenda che, magari, su una stessa crocetta mettevo più di un pantalone e la crocetta si andava a imbarcare, cioè, si deformava tutta finché poi non si rompeva. E, niente, quindi, odiavo quelle cose. Invece, adesso, con questo sistema, ho trovato la mia pace. Quindi, qui, ci sono tutti i jeans, pantaloni un po' più sportivi, pantaloni un ecopelle, un po' più da tuta, tipo questi dell'Adidas, qualcuno in maglia, questo qui in maglia di Zara, questo in veluto di calzedoni, ecopelle, jeans, eccetera. Quindi, tutti i pantaloni sono qui. Vabbè, giù ho la mia borsa della palestra. La butto sempre qui. Questa qui, della Nike. E poi, vabbè, ho tutti questi sacchettini del... Vabbè, questo è un asciugamani che uso sempre per la palestra in più, quindi questo è pulito. E, niente, poi tutti i sacchettini che uso per le scarpe quando devo portare le scarpe in valigia in viaggio. Quindi questo è il primo scompartimento. Poi, passiamo all'angolo. Qui c'è un angolo che è molto comodo perché non vi prende tanto spazio nella stanza, però, insomma, è bello capiente. E qui ho organizzato in quei ripiani, lì su tutte le borse, qui tutti i cappotti, giacche e cappotti. E poi, sul fondo, le scarpe. E su tutto questo lato qui ci sono le scarpe. Quindi lì ci sono gli stivali, quelli sono un paio neri in pelle scamosciata. E quegli altri sono un rosso scuro in velluto. Sempre alti, oltre al ginocchio. Sono bellissimi, però li uso di meno, quindi stanno lì su. Questi sono stivaletti con il tacco. Questi bordeaux di Steve Madden. Questi pitonati. Questi qui stringati di Zara. Poi qui ho questi stivali normali, quindi né alti al ginocchio né tronchetti classici. Insomma, altezza classica. Questi li ho presi da poco nei saldi. E anche questi di Zara. Zara, tutti di Zara. E dietro cosa c'è? Ah, quelli lì scamosciati, cui ho, di Ovie. Poi, qui sono altri stivaletti. Questi grigi, qui e quelli Tortora di Hogan. De Camperos neri. Questi texane stile Chloe. Qui ci sono gli anfibi. Quelli a destra di Marc Jacobs. E questi qui di Zara. Questi qui stampa cocco. E quelli lì, insomma, che conoscete. Poi qui ho le mie sneakers. Allora, lì ho un modello tipo Converse di Ash in pelle, con le burchette. Qui ho le mie Alexander McQueen. Quelle mie Valentino. Quelle a calzino. E poi, lì ho le mie Ag. E poi, vabbè, le mie Puma. E le mie scarpe da ginnastica. Con cui vado in palestra. Ho le Adidas bianche. Ho queste Nike qui. Nere. Le Air Max. Preste da poco. Sempre nei saldi. E niente. Qui altre scarpe. Con i tacchi. Sandali. Decoltè. Che metto anche comunque. Qualcuna metto anche d'inverno. Qualcun'altra no. Infatti è laggiù. Qualche sandalo che metto solo d'estate. L'ho messo più sul fondo. E quindi, ragazze. Questo è l'angolo. In cui ho messo scarpe, borse e giacche. Qui sono tutti cappotti. Piumini. È bello profondo, ragazzi. Perché è un angolo. E quindi, ho potuto mettere a... Ho potuto far entrare un po' tutto. E anche lì, insomma, tutte le mie borse fino in fondo. È bello capiente anche qui. Perché è super profondo. E niente. Quindi, angolo. E poi passiamo all'ultimo scomparto. Quest'anta più piccolina. Ho deciso io di metterci uno specchio. Perché appunto non avevo uno specchio in camera. E secondo me, serve sempre. Allora. Questo scomparto qui, invece. E ho deciso di farlo tutto mensole. E quindi, ci ho messo tutti i maglioni. Che ho cercato più o meno di dividere anche in ordine cromatico. Guardate come sono brava. E niente. Quindi qui ci sono tutti i miei maglioni. Così. E anche questo è super profondo. Quindi, dietro queste pile. Almeno quelle del primo ripiano. Dietro queste due pile. Ce ne sono altre due. Poi, nel primo cassetto qui, invece. Questo l'uso per la biancheria. Quindi calze, calzini, reggisini. Eccetera, eccetera. Questo. Qui ci sono tutte le t-shirt. Tutte, tutte le mie t-shirt. Con le stampe, eccetera, eccetera. E poi, invece, qui, da questo lato, tutte le canotte. Canottine, canottiere. Insomma, che metto sotto i maglioni. Eccetera. Poi, in questo altro cassetto qui, ho dei top, dei body. Che metto un po' più, diciamo, per uscire. E invece, qui, nell'ultimo cestone. Diciamo, perché qui non si poteva mettere un altro cassetto. Quindi, mi hanno messo questo cestone. Ho la roba per la palestra. Qui ci sono tutti i miei leggings, tutti i miei tights. In questa pila qua. Qui ci sono tutti i miei reggisieni sportivi. Vedete tutti i Nike, Adidas, Kelvin Klein, Reebok, vabbè. Questi qui. E qui ho tutte le canotte o maglie. Canotte, maglie, eccetera. Qui. E quindi, questo è l'ultimo scomparto. Poi, quindi, qui, come vi ho detto, questa poltroncina presa da Maison du Monde. Troppo, troppo carina e costa anche poco in questo velluto blu. Un blu petrolio. Poi, questo è un nuovo acquisto, insieme alla poltroncina, sono stati gli ultimi acquisti, appunto, che ho fatto di recente da Maison du Monde. Ho preso questo cassettone, con questa poltroncina e quel manichino lì. E insieme poi al tavolo della cucina. Comunque, allora, sul cassettone abbiamo questa piantina che praticamente è un po' malconcia. E vabbè, non ho per niente il pollice verde. Chiedo bene. Poi, qui ho questa kokeshi, questa bambolina giapponese che ho preso alla fiera di artigianato. È originale giapponese perché, appunto, l'ho presa appunto nel padiglione giappone e la tipa mi ha detto che le, appunto, collezionava. Insomma, andava proprio a cercare tutte queste bamboline giapponesi originali, comunque anche un po' antiche. Questa non credo sia antica, però vabbè. E qui ho delle bottigliene, delle boccettine di profumo. Questi sono quelli che non uso, praticamente, perché mi sono stati sempre regalati dall'azienda. E li uso quindi solo per bellezza, perché a me non piace per niente Chanel numero 5, ragazze. Io usavo Coco Mademoiselle, che secondo me è buonissimo come profumo. Però adesso mi sono stancata e l'ho cambiato. Adesso ha un profumo super bello che non si trova più, però sono riuscita a trovarlo, a reperirlo su internet. E quindi ho la mia scorta personale. Finché dura, ho già comprato due boccette da 100 ml. Adesso penso ne comprerò altre due, perché sicuramente, insomma, è un profumo che non producono più. E non conosce nessuno, ce l'ho davvero solo io. E niente, quindi devo fare una scorta. Comunque, vabbè, questi qui, perché sono belli. Insomma, c'è il numero 5. Questo è anche la Camellia. Questo anno lo regalo all'azienda a Natale scorso. E questo invece mi ha regalato quest'anno, insieme ad altri prodotti Chanel. E questa è l'edizione, non so se è un'edizione limitata, ma anche l'edizione rossa. Che hanno fatto quest'anno è molto molto bella la boccetta. E questo qui, che è una nuova fragranza, che non mi piace per niente. E anche mi è uscita nel pacco, diciamo, regalo. Di Natale. Poi questo è un calendario luminoso che ho preso da Maison du Monde, nei saldi. Infatti ho pagato pochissimo, tipo 3 euro o qualcosa del genere. E niente, si cambiano appunto. C'è il mese. Qui ci sono, vabbè, Happy New Year, perché l'ho messo all'inizio dell'anno. Però qui si può mettere il giorno. O anche delle frasi. Ad esempio c'è Today is the day, oppure Happy Birthday, nel caso appunto del giorno del vostro compleanno. Comunque, insomma, avere scritte carine da cambiare, si cambiano i mesi, quel giorno. Qui ho le mie Yankee Candle, che ho portato da Napoli. Sono le mie fragranze preferite. Le amo. Queste due hanno un profumo buonissimo. Infatti ho anche le cialdine. Questa è una profumazione per ambiente di Maison du Monde. Ed è buonissima, un po' al palco, diciamo. E questa è una stellina luminosa che ho preso alla S lunga. L'avevano fatta appunto per Natale, un addobbe natalissimo. Secondo me è carina da tenere sempre, comunque tutto l'anno. E poi qui ho praticamente questo scrignetto, diciamo, dove ho tutti i miei cerchi, orecchini, braccialetti, anelli, l'orologio, insomma cose che... A catenine, comunque cose che uso un po' più spesso, un po' più per tutti i giorni. Vabbè, qui ci sono i miei orecchini, che li levo, li metto qui, li devo mettere a posto. Allora, nel cassettone invece ho... Adesso aprirlo con una sola mano, non è semplice. Farò cadere tutto. Allora, nel primo cassetto ho praticamente tutti i miei pigiami. Vabbè, qui ho tutti i portafogli. Allora, che non saprò dove mettere. Allora, qui ho tutti i miei pigiami. Questo qui di Timissimi, topelosino. Questo di H&M, una maxi filpa lunga con leggings nero. Questo a quadri, mi piace un sacco in flanella. Io adoro Isho, questi sono dei baby doll. E vabbè, felpe, camicia da notte a quadri di H&M. E niente, quindi nel primo cassetto tutti i pigiami, camicia da notte, eccetera, eccetera. Ok, chiudiamo. Ce la posso fare. Mentre invece, nel secondo cassetto, ho praticamente tutte i copri piumini, le federe, insomma, coperte. Lenzuola, copri piumini, eccetera. Qui, vabbè, nell'angolo, vi ho fatto vedere, c'è questo manichino inferbattuto che mi piace da sempre. Lo adoro. Bicco in un quadro. E niente, lì c'è la mia ring light con la finestra. Poi, i comodini sono di Maison du Monde. Sono sempre blu con questa maniglia oro e richiamano la poltroncina blu con la fascia oro. Il letto, invece, è di Mondo Convenienza. Io compro sempre i letti da Mondo Convenienza. Mi piacciono tantissimo. Sono molto più belli di quelli di Ikea. Sono fatti veramente bene. La qualità è veramente eccezionale. E costano pochissimo. Mentre invece, il copri letto, il copri piumino, è di Ikea e lo amo. Cioè, questo è il copri letto più bello di sempre. Secondo me è super elegante. E poi è questo materiale un po' setoso. Non so se lo riuscite a capire dalla fotocamera. Comunque, è bellissimo. Qui, vabbè, ho il quadro che avevo anche a Napoli. Me lo sono portato. C'è un quadro. In realtà è una stampa con quattro mie pose. L'ho fatto io. Infatti, si vede che non è proprio il massimo come risoluzione, come qualità. Però, vabbè. E niente, la tessera del letto è tipo scamosciato di qualcantare. È questo color, un tortora chiaro, che appunto è molto simile alle pareti, che sono comunque un grigio chiaro, un tortora. Allora, sui comodini. Allora, qui ho questa cassa piccolina della JBL per ascoltare la musica, va per il telecomando. Questo cornetto troppo carino, con il Vesuvio, il Pulcinella. Questo è ancora una portafortuna. Me l'ha regalato mia madre. E, vabbè, questa è una lampada luminosa. Vabbè, ormai vista, stravista. Vabbè, l'ho presa un po' di tempo fa. Di Maison du Monde. E niente, quindi su questo lato il comodino è questo. E qui ho un altro paio di pantofole. E i lumini che cambierò, perché voglio mettere quelli uguali alla piantana che ho nel soggiorno. Cioè, sono degli applique da appendere al muro. E ve li faccio vedere. Sono praticamente uguali. Ecco, qui a questi sarebbero degli applique così. Quindi uguali a questa lampada qui. E niente, quindi poi comprerò quelli da Ikea e li appenderò al muro. Mi piacciono di più comunque da muro. Quindi li avrò questi che ho preso così. Che costano poco, insomma, sempre da Ikea. E niente, ragazzi. Quindi questo era il mio room tour. Questa è la mia stanzetta. È abbastanza spaziosa comunque. Lì penso ci andrà qualcosa. In quella parete lì, un po' vuota. Devo mettere tipo un composite di foto. Adesso vedo un po'. E niente. Quindi questa è la mia stanzetta. Allora ragazzi, questo era il mio room tour. La mia stanzetta milanese e la mia organizzazione dell'armadio. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi è dato degli spunti, se vi è tenuto compagnia. Quindi mettetemi un pollice all'insù. In caso appunto vi sia piaciuto il video, eccetera. E niente, quindi io vi saluto. Vi mando un super mega bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao.